Al salotto 2012 del Mix abbiamo Renzo Ravaglia che è EVP Service Provider di Interroot. A lui chiediamo cosa ne pensi della recente proposta di Peering di Telecom Italia, ovvero di rendere piramidale l'interconnessione tra operatori internet italiani. Vorrei innanzitutto dare un quadro, una panoramica di quello che succede negli altri paesi europei, se non altro avendo la responsabilità di gestire l'attività di Service Provider di Interroot a livello mondiale, ho una certa visibilità di quello che succede in altre parti del mondo e cosa fanno gli altri incumbent. Gli altri incumbent più o meno si possono dividere in due categorie, quelli estremamente, chiamiamoli, liberali, come fino a oggi è stata Telecom Italia, e quelli invece molto più selettivi, possiamo ricordare Telefonica o Dolce Telecom, tanto per citare due degli esempi più significativi. Che cosa ha significato o qual è il vantaggio di un approccio liberale? È quello di consentire una forte liberalizzazione del mercato, l'emergere di tanti attori, di tanti soggetti che determinano un forte sviluppo, un forte impulso del mondo internet. E quindi si può, se non altro, a posteriori, considerare un approccio estremamente positivo, perché, ripeto, favorisce l'emergere di tanti operatori che altrimenti sarebbero soffocati dai costi, fatemi chiamare con un termine forse desueto, dai costi di interconnessione. Cambiare questo approccio ha un evidente significato commerciale. E' chiaro, io ho i clienti, ho la terminazione e quindi chiedo, non posso dire impongo, ma chiedo che mi venga pagata nell'ambito comunque di un accordo commerciale che non lascia molto spazio a una pariteticità di comportamenti. Perché ovviamente la discrepanza tra il potere e le dimensioni di un incumbent rispetto a quello di un piccolo o medio service provider è talmente eclatante che di fatto non si può nemmeno immaginare una negoziazione. Questo è, questo se lo vuoi lo prendi, altrimenti niente da fare. Allora, di fronte a uno scenario di questo genere, comprensibile dal punto di vista commerciale, ci si deve anche domandare gli effetti negativi. Che cosa può significare per la fragile economia italiana, così tutto sommato poco propensa, poco utilizzatrice delle tecnologie di internet? Può significare un'ulteriore diminuzione del ruolo del nostro paese, della presenza, dell'importanza delle tecnologie di internet nell'economia italiana. Quindi, parlo con la voce comunque adesso di un operatore di medie e grande dimensioni che accordi di peering praticamente in tutto il mondo e che in Italia ha un accordo di peering di lunghissima data con Telecom Italia. Non posso che esprimere l'auspicio che questa proposta di Telecom Italia non venga portata avanti e che la situazione rimanga come è attualmente. Credendo che questo alla fine sia un vantaggio per tutti, anche di Telecom Italia, perché comunque aumenta il traffico, perché comunque aumenta la possibilità, la capacità di interconnessione, perché è un vantaggio per l'economia nazionale e un operatore come Telecom Italia ne avrebbe ovviamente tutti i benefici, se non diretti, certamente indiretti. Grazie. Grazie.